Avete fatto serata con i vostri amici ubriaconi persi e dovete andare a casa e dovevano per forza accompagnarvi loro? Oggi vi provelo un segreto che nessuno te lo dirà mai. A te ti occorre semplicemente avere due coni tipo questi e non sarà più un problema. Vieni che ti mostro cosa devi fare. Tutti ce li abbiamo a casa, dei coni questi qua, sono praticamente seven. Da oggi dovete sempre portarveli dietro perché vi possono salvare la vita in casi quando il vostro amico ubriacone, neopatentato, si mette alla guida e ti dice Vieni, vieni, vai tranquillo che io reggo l'alcol, sono uno professionista. La prima cosa da fare è prendere una pena e lui deve semplicemente seguire la pena. Vedi? Deve seguire la pena. Ok, vedi come la segue? Se fa così è già il primo indizio che il tuo amico, è il secondo tentativo che è quello più celebre e dovete saltare dei coni, tipo come così, devi dirgli salta, salta uno, poi deve camminare così, vedi? E l'ultimo conno non deve più saltarlo in avanti ma alla Cristiano Ronaldo. Se lui supera tutti questi tre test che sono dei test che usano tutti gli agenti in tutto il mondo, vuol dire che è sicuro, puoi andare in macchina con lui. Ma se ne sbaglia anche solo uno, solo uno a metà, dilli, caro amico ubriacone, vai pure a bere. Mi raccomando, non bevete alla guida, quando guidate no alcol, zero. Ora sì che ti puoi vantare con il tuo amico ubriacone. Grazie. Grazie. Grazie.